La festa dell'unità nazionale, la giornata delle forze armate, è stata celebrata questa mattina con due diversi appuntamenti. Al mausoleo di Posillipo, con la cerimonia di deposizione delle cinque corone di alloro da parte delle autorità e la firma nel registro d'onore, e successivamente in piazza del plebiscito, con la cerimonia dell'alzabandiera, il passaggio in rassegna dei reparti schierati e la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Io credo che ricordare le persone che si sono sacrificate per difendere la libertà del nostro Paese, che hanno servito lo Stato, credo che sia sempre un momento importante che deve essere anche di memoria per il futuro, spingere all'impegno civico e alla difesa dei valori costituzionali. Grazie.